Great moment, perché ora si è aggiunto a questa nuova generazione un soul, uno della vera generazione soul. Ladies and gentlemen, se abbiamo già Mr. Dwayne Thomas Jr. qui, ora, fresco fresco, Da un paio di concerti con Mr. Eric Clapton, abbiamo il suo padre, Mr. Dwayne Thomas Sr. All right! Sempre al basso! South Soul Rhythm Section, con Mr. Dwayne Thomas Sr. All right! 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 All right!